...estera dell'Unione Europea, dell'Unione Europea, dell'Unione Europea, dell'Unione Europea. Sono problemi bancari, con la Sicilia, con... E io ho visto, perché non ricordo l'ho vissuto, quando c'era l'Unione Europea, l'Unione Europea, quando c'era la questione delle parti. A parte, mi sembra, la storia è finita da sempre. Come mai questo momento non interessa, non interessa solo a pochi paesi, a tutti gli altri si sentono sicuri.